Le province non ci stanno, dopo i tagli decisi dal governo passano al contrattacco minacciando azioni di proteste eclatanti. Lo stop al riscaldamento nelle scuole preannunciato dal neopresidente dell'UPI, Antonio Saitta, presidente della provincia di Torino, è una delle provocazioni più forti in risposta al taglio da 500 milioni di euro stabilito dalla spending review per le province. L'UPI è sul piede di guerra perché il governo andrà a colpire anche la sanità con la riduzione di oltre 7 mila posti letto, così come potrebbe profilarsi il rischio di aumento per il costo delle assicurazioni auto. Il presidente della provincia di Salerno, Antonio Giannone, è preoccupatissimo. Dopo aver partecipato alla riunione di ieri a Roma, ha detto che le misure adottate dal governo potrebbero costringere la provincia a dolorosi licenziamenti di personale o all'auduzione della mobilità. Ricorreremo al Tar perché siamo profondamente preoccupati per l'impossibilità di garantire i servizi ai cittadini e perché siamo convinti che dobbiamo anche tutelare il futuro dei dipendenti dell'ente. A questo proposito faccio anche un appello alle forze sindacali disinteressarsi oggi perché la decisione riguarda soltanto la decapitazione politica si trascura il fatto che immediatamente dopo arriveranno misure volte alla dismissione del personale. E' sempre stato così, si apre una falla e poi si tenta di abolire completamente un livello istituzionale lasciando poi la vecchia architettura nel suo complesso. Noi abbiamo affermato ieri un principio, quello che non ci stiamo ad essere i boia del nostro territorio, non ci stiamo a non garantire la sicurezza delle strade, delle scuole. Naturalmente se non ci vengono date le risorse noi siamo nell'assoluta impossibilità di agire.